Questo è il risultato di una notte di vento terribile, due abeti, in questo caso sono dei larici, abete larici, si sono troncati, cadendo in terra si sono incrociati, guardate qua lo schianto, sono alberi di una trentina di metri, la troncatura è avvenuta alle circa ora si guarda, ha un terzo del fusto, ecco il fusto eccolo qua, ecco è qui, si intravede nel fogliame, si risale, è enorme, si vuole due uomini per girare il diametro, la circonferenza ci sono scelta, guardate a che altezza si è troncato, eccolo là, là su cima è troncato, questo è uno, l'altro, eccolo qua, quest'altro si è troncato decisamente più basso, non si riesce a riprenderlo, eccolo là, scusate, si era nascosto, lo vedete, sono piuttosto lontano, sulla sinistra, in mezzo a questi due fa un faggio a sinistra e una metà a destra, eccolo qua, questo è il risultato, un rumore terribile, ve lo lascio immaginare, e comunque eccolo qua, questi sono, questi occhi croce, queste piante hanno, se non arrivano a 100 anni poco ci manca.